Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, vi do il benvenuto qui al canale Siamo su Farnisimilator 22, la mappa Silver Run Forest Allora, sto un attimo continuando con le lavorazioni Porto avanti un attimo lo stoccaggio della falegnammeria Allora, oggi credo e spero sia la volta buona che Finisco la costruzione dell'ottovolante che alla fine poi Come avrete già visto in altri video, in altri canali Credo sia l'unica soluzione di questa mappa definitiva Non c'è altro da fare purtroppo su questa mappa Secondo il mio punto di vista la mappa è fatta molto bene È bellissima però Essendo praticamente tutta forestale ha avuto i suoi limiti Ecco, tutto qui Bene, comunque io adesso Un po' aver sistemato un attimo tutto questo intasamento di materiali Vediamo un attimo se riesco a togliermi anche i muri Dalle schiadoline Ci vediamo poi all'ottovolante Che vi faccio vedere perché Sono andato Eccolo qua Sono andato avanti Comunque prima di continuare con il gameplay Io vi ricordo di iscrivervi al canale Pollicioni su dei million like Commentate, condividete Giù in descrizione da tutti i link Per seguirmi e supportarmi E vi ringrazio Allora come vi dicevo Sono andato avanti E ho portato tutti i materiali che servivano alla prima fase Ora sto quasi per concluderla Questa prima fase E poi vediamo un attimo che succede Ok, fermi un attimo perché Mi richiede nuovi materiali Ok, ok Allora Un attimo perché Qua siamo saturi Allora Qua siamo saturi E devo venire Pure qua E anche qua Qua stiamo bene Ok Si sta svuotando Bene Devo sistemare un po' di cose E poi ci vediamo Col primo Carico Per la consegna Ho un problema Nel senso che Sto portando In metallo Sul punto Diciamo Più di vendita Di scarico Però Le difficoltà Sono molte Perché Non potete capire Allora Visto La montare Diciamo Del budget Che ho a disposizione E alla fine Su questa mappa Qua si tratta Solo di Trasporti E' meglio Che a sto punto Mi prenda Un bel camion Con un cassone Con il cassone Più grande Che si può trovare Perché C'è molto Da trasportare E c'è molto Da fare Per cui Almeno Su questa cosa Posso fare Un attimo Più in fretta Perché Comunque anche Il carico qua Ne teneva pochissimo Sto cassone qua Ormai E' obsoleto Per cui A meno che Non ha il gancio posteriore Non va bene Allora Stem Bidoni qua Di metallo Purtroppo Si possono vendere Solo Alla fornace Purtroppo Non ho ben capito Che senso ha Ma la fornace È mia Per cui Non vedo come Io possa vendere A me stesso E devo dire Che sta producendo Un botto Comunque E adesso Questi Li consegno Tutti all'autovolante Sperando che Me li compri lui Così Mi libero Un po' Di Di queste Cianfusaglie Allora Nel frattempo Che il nostro Operaio Si va a fare Diciamo Arriva sul punto Io stavo Valutando Un attimo La cosa La faccenda Allora Come di LC Platinum Ci sono Sti tre camion Qua Che però A me Non piacciono Proprio Per niente Io direi Di Prendermi Uno di questi Che mi piace Parecchio Eccolo qua Andiamo ad acquistare Con un bel Cassone Adatto Al Compito Una cosetta Molto Breve Bella Long Eccolo qua Proviamo ad acquistare Questo E vediamo Un attimo Che succede Nel frattempo Il nostro Amico È arrivato Ora Che capisco Se riesco A vendere Qua Perché Se no La questione È gravosa Sì Eccellente Io Ah Tutto qua Tutto qua Interessante Vediamo 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 un attimo Di recuperare Il camion Eccolo qua E di capire Se funziona Oppure no Che almeno Adesso Vado 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 Eccellente Allora Allora Lui non Ne vuole Più No Basta Metallo L'ha Già Esaurito Il metallo Allora Allora Portiamolo Tutto 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 Il magazzino Però Il magazzino Io avrei bisogno Di un magazzino Qua Perché Se no Ok Conviene Che mi posizioni Un magazzino Qua Perché In effetti Allora Qua c'è lo scarico E là c'è il carico Credo che stia bene Qua Ottimo Così almeno Ne ho uno vicino E non mi rompo Il marones Allora Adesso Continuo Con A portare Le cosette Lì All'otto volante E poi Che ho anche Altre cose Da sistemare Come produzioni Qua Ad esempio Allora Ho Terminato Di portare Diciamo Quello Che Avevo E Come potete notare Si nota Là In alto A destra Che Comunque Il processo Di costruzione Sta andando avanti Comunque Per cui Vedete che Le cose Diciamo Diminuiscono Io non so Quanto tempo Ci vorrà Per finirlo Comunque E andiamo avanti E andiamo avanti L'importante È che Controllare Le produzioni Che non si Blocchino Esatto Esatto Che altro Ecco come qua Il metallo Il metallo Per il momento Non mi interessa E Posso anche Disattivarlo Qua 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 Invece Stiamo Andando Alla Grande Continuiamo A raccogliere Non so Quanta Roba 185 Mila Litri Vabbè Una volta Riempito Poi Basta Così Perché Non ha Altro Senso E Niente L'unica Cosa Che Che c'è Da fare E andare Avanti E Continuare A portare Materiali E Finire Sta Costruzione Che poi Appena È Finita Qua Non c'è Più Nient'altro Da Fare Io Credo Che Ci Vediamo Appena Avrò Concluso Tutto Allora Nel frattempo Devo Anzi Non devo Non devo Far niente Vado A recuperarmi Le altre Produzioni Che Non ho Comprato Nei gameplay Nei precedenti Vediamo Visto Che Comunque Sto Recuperando Anche Un po' Di soldi Vendendo All'ottovolante Ok Allora Ho scaricato Tutto Allora Questa Fabbrica Per Articoli Fermati Un attimo Perché Sennò Non si Vede Una Mazza L'ho presa Oppure No No Ok Andiamo a recuperare Peccato che non mi segni Le produzioni Che Qua ci siamo Fabbrica Fabbrica di barili La prendiamo Ok Poi Che ci resta Tornio L'ho preso Fabbrica di mobili Non Mi ricordo No Ok Basta Sì Credo di avere Tutte le produzioni A parte Questa Qua Fabbrica di Carta Che Se costa 80 Siamo salvi No Va bene Allora Questo Si può Spegnere Qua siamo ormai Verso la fase Finale La prossima Fase Assi Lunghe E lana Ah Interessante Mi son Fregato Perché la lana Non ce l'ho Il metallo Ce l'ho E allora Lo mettiamo In Distribuzione Qua Come siamo messi Qua bisogna andare A recuperare Tutto Qua Mettiamo In Distribuzione Perfetto Così si Arrangia Qua Siamo a Posto Qua Devo Andare A recuperare Tutto La lana Devo Prendermi La lana Perché Non vado Proprio La lana La compro Tanto Non vado Sinceramente A cominciare Una produzione Che ormai La serie È conclusa Dovrebbe essere L'ultimo episodio Questo Per cui Vabbè Arriverà Un po' Tutto Con calma Spero Ok Qua Siamo A posto Trave Vabbè Richiede Sempre Le solite Cose Mi Sembra Di capire Trave Assi 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 Lunghe Vabbè A sto Punto Non c'è Altro Che io Possa Fare Le Produzioni Sono Partite Sì Qua è Partito Tutto Molto Bene Piano Piano Arriva Tutto Sì Sì Bene Bene Ora Allora Ho portato Il resto Della Baracca Qua Ho portato Altre cose Come sempre E La costruzione Sta procedendo Nel frattempo Mi sono Come potete Vedere Un attimo Rifornito Di Di belle Cose Tra cui Il camion E Molto Bene Non so Quanto Quante Ancora Quante Fasi Ancora Possono Mancare Però Andiamo Avanti Tanto Ormai Sappiamo Dove Dobbiamo Arrivare Trave Di legno E In saturazione Non importa Mi fermo Soltanto Perché Sarà Tutto Saturo Ormai No Dai Resiste Bene E Questo È Meglio Metterle In Vendita Perché Non Ne Faccio Niente Pensavo Di Trovare Qualche Soluzione Ma Come Anche Il muro Profabbricato Non Mi Sembra Di Che Sia Così Importante Qua Adesso Fra poco Devo Andare A recuperare Un po' Di Cosette Vediamo Se Riesco A Concludere Almeno Questa Fase Ok Mancano 5 litri Di Piastrelle 3 2 1 Ecole Qua Comunque Lui Continua A Processare Vedo Che Comunque Continua Ad Avere Bisogno Allora Quello Con Gli Europallet È Questo Per Qui Andiamo A Recuperare Un po' Di Cosine Allora Ho notato Che Qui Abbiamo I Tavoli Il Guardaroba Novità Le Sedie E Le Tavole Ancora Un tavolo Molto Bella Comunque Veramente Continuo Andare Avanti Finché Non Avrò Concluso La Costruzione Tanto Posso Anche Andarci Sopra Tranquillamente Così Scarico Un po' Di Prodotti Se Gli Serve Qualcosa Legna Cambia E La Mettiamo In Vendita 2 Milioni Non Tiene Distribuzione Qua Abbiamo Messo Il Muro In Vendita Per Il Momento Andiamo A Vendere Anche Questo Eccellente Qua Siamo In Vendita Perfetto Qua Invece Vendita E Torniamo In Distribuzione Qua Vendita Vendita Vediamo Vediamo Attimo Cosa Ne Esce Qua Ah Eccoli Qua I Barili Sì Bellissima Come sempre Strano Però Che Trave Di Legno Pensavo Di Avere Trave Di Legno Invece Non Ce L'ho Come Mai Come Non Ho Trave Di Legno Andiamo A Recuperare Sta Trave Di Legno A Sto Punto Allora Manca Pochissimo Vediamo Un attimo Se No Non Finisce Mai Allora Sta Richiedendo Parecchie Cose Adesso Veramente Sta Richiedendo Travi Assi Che Comunque Travi E assi Già Ce ne Sono Abbastanza Metallo Che Già Ce n'è Le Piastrelle Già Ci sono Muro Prefabbricato Interessante Un attimo Che Gli Metto In Magazzino Allora In teoria Ho recuperato Quasi Tutto Come potete Vedere Ci sono Anche Tutte Le cose Nuove Di Oggi Che Ho Acquistato Come Produzioni Stato Una Giusta No Dimmi Che Vuole Solo Basta Tutto Qua Vabbè Tutto Qua Non Vuole Altro Strano Allora Gli Porto I Muri Quelli Che Riesce A Recuperare E Poi Andiamo Avanti Vediamo Un attimo Fin dove Riesco Ottimo Vedo Che i muri Se li Piglia Tutti Vabbè Teoria Secchio E Barile Non so Se sono Andato A Prenderli Però Secchio E Barile Eccoli Qua No Invece Devo Dire Che Come Produzione Veramente Molto Bene Andiamo A Scaricare Ok Tutto Qua Perfetto Mi Sembra Che A Parte Il Tavolo Forse Che Manca Si Il Tavolo Perché Non Ho Un Tavolo Si Adesso Va Giù Tutto In Teoria Si Facciamo Scorrere Velocemente Il Tempo Perché Ormai Non Abbiamo Quasi Più Tempo Sinceramente Da Un Bel Po Che Sto Registrando Comunque Per Quello Che Ne Esce Di Sto Video Perfetto E Richiede Ancora Cose Che Vedo Che Comunque Ci Sono Andiamo Avanti Fino A Che Basta Capacità Barile Esaurita E Abbiamo Concluso Abbiamo Concluso Bene Corsa In Attesa Ok Vediamo Un Attimo Che Succede Sali Sull'ottovolante Inizia Tra Eccellente Non c'è La Visual Esterna No Lagga Un Po Ma Va Vabbè E Così Ci Facciamo Questo Ultimo Giro Ragazzi Io Credo Che Comunque Tra Un Attimo Mi Fermo Qui Vi Ringrazio Qui Mi Mi Come Vi Ricordo Di Iscrivervi Al Canale Pollicione In Su De Million Like Commentate Condividete Giù In Descrizione Tutti I Link Per Seguirmi E Supportarmi Vi Ringrazio Bene Godiamoci Questa Ultimo Giro Bellissimo Lagga Un Po Perché È La Prima Volta Ma Il Prossimo Giro È Lunghetta Però Alla Faccia Che Botte Interessante Bellissimo Veramente Bellissimo Veramente Ci è voluto Un bel po' Credo Ci sono voluti Un paio D'anni Perché Sono andato Avanti Parecchio Devo dire Alla Fine Perfetto Bellissimo Ottimo Comunque Va Ben Così Comunque La Mappa Si Conclude Qui Perché Non c'è Altro Da Da Fare Purtroppo Non Questo L'ho Costruito C'era Forse Questo Il Cantiere Navale Che Ha Da Comprare Ok Interessante Si Forse C'è Anche Questo Da Seguire Ma Anche No Assi Se Tra Metallo Piastrelle Forse Bisognerà Produrre Qualcosa Si Si Va Bene Va Bene Va Bene Comunque Io Per il Momento Mi Fermo Qui Vi ringrazio Segui Mia Compagnia Vi do A Puntume La Prossima Gameplay Ciao Tutti Grazie Ciao Ciao Ciao